Buonasera telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv edizione serale del telegiornale del canale 99. Apriamo con la cronaca, si è fatta aprire dal custode e una volta all'interno del cortile del palazzo della nonna in strada maggiore ha iniziato a urlare e a dare di matto chiedendo 5.000 euro per andarsene. La donna, una bolognese di 39 anni, quando la nonna di 84 anni gli ha detto di non avere in casa quella cifra ha abbassato le pretese ma non i toni chiedendo allora 1.000 euro. A quel punto le due badanti della signora l'hanno fatta salire in casa dove invece di calmarsi ha iniziato a spaccare tutto quello che trovava. Si è placata all'arrivo della polizia per qualche minuto per poi però riprendere peggio di prima minacciando anche i poliziotti. Alla fine è stata arrestata per tentata rapina, gravata e denunciata per minacce a pubblico ufficiale. Ancora la cronaca, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Giovanni in Persiceto e della stazione di Crevalcore hanno arrestato un ventenne italiano per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate. E' successo ieri mattina quando la centrale operativa della 112 è stata informata che nei pressi di un'abitazione di Crevalcore era scaturita una violenta lite familiare. La notizia è stata trasmessa subito a tutte le pattuglie dell'arma che in quel momento si trovavano nelle vicinanze per i controlli del territorio. All'arrivo dei militari un uomo identificato in un 52enne italiano si è avvicinato all'autoradio dicendogli che il figlio, ventenne, gli aveva preso a calci l'automobile danneggiandola nella parte posteriore a seguito di un raptus di follia nel corso del quale aveva aggredito anche la madre, 42enne italiana. La donna, sentita dai carabinieri all'ospedale di Cento, ha riferito che intorno alle 9.30 il figlio, dopo averla raggiunta all'esterno di un ambulatorio di Crevalcore in cui si stava recando, l'aveva aggredita con una rastrelliera per biciclette. L'ennesima tragedia domestica è stata però evitata dall'intervento di una dottoressa che dopo aver sentito le urla della donna è uscita dallo studio medico e ha fermato il giovane. La 42enne è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata ad urgenza al pronto soccorso. È stato a quel punto che il ragazzo non essendosi sfogato abbastanza con la madre è tornato indietro e ha distrutto la macchina del padre, finendo però in manette per mano dei carabinieri che su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna lo hanno tradotto in carcere. La donna poi è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 60 giorni. Cambiamo pagina in campo contro la moschea. Oggi in comune la conferenza stampa è indetta da Forza Italia che dice no alla costruzione di una nuova moschea a Bologna. A spiegarci meglio nel dettaglio i motivi di questo no è Galeazzo Bignami, il deputato di Forza Italia. Noi riteniamo che sia necessario, arrivati a questo punto, che il governo introduca una disciplina che impedisca la realizzazione di moschea senza che vi sia una normativa che consente e regola quello che oggi viene fatto abusivamente in tante realtà italiane. E che invece non è più consentito. Basta privilegi, basta corsi preferenziali per gli islamici che se vogliono aprire il proprio luogo di culto lo devono fare rispettando la Costituzione. Cosa che oggi non possono fare perché mancano i presupposti di base. A Bologna vogliono realizzare una moschea in via Pallavicini spacciando quello che è un magazzino come un luogo di culto e di preghiera. Già oggi andando in via Pallavicini si legge moschea quando in realtà è un magazzino. E riteniamo che questo sia in sfregio a ogni regola. Cosa succederebbe se un italiano o un commerciante aprisse un locale o un'attività senza le autorizzazioni? Dopo due minuti arriverebbero a chiuderlo. Non capiamo perché invece agli islamici tutto è permesso. Ecco, questo può essere un problema per un processo di integrazione qui a Bologna, il fatto che voi siete contro il costruire una moschea. Noi riteniamo che ad integrarsi debbano essere loro, non noi. Quindi se loro vogliono venire in Italia dove nessuno credo li abbia invitati possono farlo per carità ma devono adeguarsi alle nostre leggi e alle nostre regole. La Costituzione parla chiaro perché prevede che le confessioni religiose sulla base dei propri statuti si possano organizzare e abbiano in base di intese con lo Stato poi la possibilità di fare quello che è lecito fare. Ma non creando delle associazioni o sfruttando degli scantinati o dei magazzini, aprendo delle moschee che sono anche ad alto impatto sul territorio. Nessuna corsia preferenziale. Non vogliamo dargli nulla di meno ma neanche nulla di più. E a parlare anche ai nostri microfoni e spiegare meglio i dettagli del perché ci sarebbero delle difficoltà e non si può permettere Bologna di avere la costruzione di una moschea. Sono più che altro dettagli amministrativi anche proprio di leggi e di regole. Ce li spiega Marco Lisei, il capogruppo comunale di Forza Italia. Noi oggi diamo il via alla nostra battaglia contro questo provvedimento dell'amministrazione che è prodromico alla costituzione di una grande moschea in città. Un provvedimento che crediamo profondamente sbagliato e un provvedimento che non solo combatteremo all'interno delle aule del palazzo comunale. Già ieri abbiamo avuto un confronto anche molto aspro con l'assessore e con un rappresentante della comunità islamica ma che condurremo anche in strada, nel senso che vogliamo che i cittadini partecipino a questo processo decisionale e quindi ovviamente abbiamo messo in atto una serie di manifestazioni, di banchetti in tutta la città con una raccolta firme che crediamo che lascia un segnale, debba lasciare un segnale a questa amministrazione. I cittadini bolognesi la moschea non la vogliono. Secondo lei quali sono le criticità, quali possono essere i problemi nel creare una moschea qui a Bologna? I problemi innanzitutto sono amministrativi, nel senso che noi cediamo un diritto di superficie su un immobile che ha un valore a nostro avviso più alto rispetto a quello che è stato valutato dall'amministrazione per avere indietro un immobile che a nostro avviso ha un valore nettamente più basso. Inoltre bisogna dire che in città ci sono già tanti centri islamici, non si capisce bene cosa sono perché a qualcuno li chiama centri culturali, a qualcuno li chiama moschee, a qualcuno li chiama luoghi di culto. Le di liste di culto è qualcosa che deve essere soggiace a una normativa che è urbanistica. Non possiamo pensare che continuino a nascere luoghi di culto nascosti che in realtà sono moschee e si affianca a questi anche una grande moschee. La libertà di preghiera e di culto è libera, assolutamente, nessuno vuole vietare a nessuno di pregare ma la costruzione di luoghi di culto invece soggiace a una normativa e va rispettata. Ancora alla cronaca, cercano di rubare un autobus di linea parcheggiato all'autostazione. Ci sono saliti sopra, lo hanno messo in moto ma non sono riusciti ad allontanarsi e sono finiti in manette. Si tratta di un 24enne marocchino senza fissa di mora e una 21enne italiana residente invece a Dozzano nell'Emilia. Entrambi dovranno rispondere di tentato furto, danneggiamento e rapina in concorso. È successo il tutto giovedì pomeriggio quando la centrale operativa del 112 è stata informata che all'interno dell'autostazione di Piazza 20 Settembre si era verificata una rapina. Ha presa la notizia, i militari dell'arma si sono precipitati sul posto e quando sono arrivati sono stati avvicinati da un autista di un'azienda di trasporti pubblici su gomma con sede a Bologna che riferiva di essere stato rapinato del suo borsello da una coppia di giovani ancora in zona. Dopo aver identificato la coppia, gli uomini dell'arma hanno scoperto che prima della rapina avvenuta intorno alle 17, i due ragazzi avevano commesso qualcosa che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per l'incolumità di terze persone, ovvero il tentato furto di un autobus di linea, un Mercedes-Benz Citaro di 12 metri dell'azienda bolognese. Stando alla ricostruzione dei fatti, i due ragazzi dopo aver aperto una delle porte posteriori del mezzo che era parcheggiato, sono saliti, hanno trovato il mazzo di chiavi nascosto nell'abitacolo e dopo aver messo in moto il bus hanno sfrenato e sono partiti, ma non sono riusciti ad allontanarsi perché sono andati a sbattere contro una ringhiera. È stato in quel momento che il dipendente di un'altra azienda di trasporti pubblici su gomma con sede a Bari si è accorto di quanto stava accadendo e ha allertato i presenti. Due autisti, tra cui quello rapinato, sono saliti velocemente a bordo del mezzo trovandosi di fronte alla coppia di malviventi. Questi, dopo aver cercato di afforviare i fatti con la scusa di cercare un oggetto smarrito tra i sedili, sono scesi dal bus e hanno dato luogo a una discussione animata che è proseguita con la rapina dell'autista, l'arrivo dei carabinieri e l'arresto fortunatamente dei due malviventi. Cambiamo ancora pagina, oggi l'esposizione in fiera Superfood della nonna e nell'ambito anche di sana il convegno sul futuro del cibo, il bio c'è. Nell'intervista il nostro direttore Francesco Spada ha chiesto qualcosa di più al presidente di Granarolo, Gian Piero Calzolari. In realtà il biologico è di grande attualità, la fiera lo dimostra e quindi, diciamo così, c'è molta attenzione. Oggi bisogna capire che fare biologico è un mestiere, non dico diverso, ma un po' diverso da fare convenzionale. Quindi bisogna investire, non è solo tradizione, è innovazione, è formazione, significa mettere a disposizione nuove competenze anche informatiche, tecnologiche, culture che si devono approfondire, si devono formare ulteriormente, quindi per una parola ci vogliono risorse. Pensare che il biologico sia, guardare il campo che matura non è così. Bisogna sostituire, diciamo così, quello che aiutava l'agricoltura con tecniche diverse, altrettanto forse più costose, più onerose, rinunciando a un po' di produttività. Quindi bisogna che ci sia, qui devo dire, in Emilia Romagna, la regione ha molto investito sul biologico. Bisogna continuare, bisogna immaginare che ci sia ancora più condivisione. Quello che mi sento di dire è che biologico è un'opportunità se è in filiera, la nostra esperienza è quella. Quando noi abbiamo deciso di intraprendere questa strada, siamo partiti da un mercato che noi ritenevamo di poter intercettare grazie alla nostra rete distributiva, alla nostra presenza sul mercato. Abbiamo concordato con i nostri allevatori una quota di conversione e oggi tutto il nostro prodotto è collocato, nel migliore dei modi, sul mercato che nel frattempo continua a flettere. E ai nostri microfoni anche il direttore generale di Granarolo, Filippo Marchi. Andiamo a sentire l'intervista ancora del direttore, Francesco Spada. Facendo un'analisi dei dati abbiamo visto che a partire dal 2013 la penetrazione dei prodotti biologici nelle famiglie italiane è praticamente raddoppiata, è passata dal 50% al 93%, quindi vuol dire che tutte le famiglie italiane stanno acquistando più prodotti biologici. È un tema di consapevolezza, di bontà del prodotto, la presenza negli scaffali dei supermercati ha aiutato, perché comunque la distribuzione dei prodotti è evidentemente incrementata. c'è comunque una ricerca del prodotto che ha comunque un beneficio non solo sulla salute ma anche una logica di impatto complessivo sostenibile. E quindi Granarolo, nell'ambito di questo sviluppo, essendo leader nell'ambito del mercato lattiero caseare italiano, ha sviluppato una propria filiera e oggi possiamo dire di avere la più importante filiera del latte biologico italiano, con oltre 45.000 tonnellate di latte biologico raccolto. È un impegno importante, è un'attenzione importante, cioè per un'azienda costa di più fare biologico? Assolutamente sì, ci sono tutti i parametri definiti dagli organismi, detto che comunque le produzioni biologiche a livello europeo sono normate da legislazioni europee, quindi nessuno si può inventare come fare il biologico. Il biologico è una produzione che ha in sé dei valori importanti in quanto utilizza meno farmaci, gli alimenti degli animali sono selezionati, sono prodotti in campi dove non sono utilizzati nessun tipo di fitosanitari, quindi le produzioni medie si abbassano, non in maniera esponenziale, ma comunque si abbassano. Le vacche di fatto producono meno latte, ma lo producono qualitativamente in maniera più elevata. Ancora la cronaca per recuperare il cellulare di una ragazza che era caduto in un tombino e rimasto incastrato con un braccio tra le grate. Per tirare fuori il cittadino cileno, vittima della sua stessa buona azione, in via Matteotti alla Bolognina, intorno alle 19 di ieri sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i poliziotti delle volanti. Alla fine, con un po' di fatica, il cileno che aveva alzato un po' il gomito è stato liberato e i vigili del fuoco hanno ripreso anche il telefono che è stato restituito alla legittima proprietaria. Cambiamo argomento la pagina sportiva, il Bologna, i ragazzi di Filippo Inzaghi in questa settimana di pausa dal campionato per le nazionali godranno di tre giorni di riposo grazie al mister Filippo Inzaghi che riprenderà i lavori a Casteldebole lunedì alle 17 con una seduta di allenamento ancora a porte chiuse per via dei lavori di rizzollatura del campo visibile al pubblico. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.